bella ragazzi ciao in questa nuova serie salutate tutti ragazzi bella buongiorno ci sta ci sta ehi t'ho visto stefanino io sono pacifico no non fa andare giù nell'acqua non fai andare giù nell'acqua ragazzi siamo in questa nuova serie che è una serie multiplayer vanilla siamo in questo server che abbiamo creato che si chiama mates in minecraft e sia il nome di questa serie che sarà su tutti e quattro i canali che è il nome del server praticamente è un mondo in cui costruiremo cose e faremo cose la minecraftita dei mates però non vuol dire che registriremo tutti gli episodi insieme vuol dire che questo è l'intro che registriamo insieme poi ognuno avrà il suo villaggio in un punto diverso della mappa e ci saranno degli episodi insieme, degli episodi in due degli episodi in tre, andremo magari a uccidere il drago tutto insieme oppure andrò solo io a ucciderlo solo per prendermi lo smacco di averlo ucciso da solo si voglio vivere si vabbè un miracolo se c'è fare una casa di legno ha provato a nuotarne ora dai raga prima costruzione uno spizio dei mates e ce lo chiudiamo dentro che cazzo però di ferro eh comunque ragazzi l'avete questa per tantissimo tempo questo è il punto da dove iniziato tutto quindi costruiamo un altarino qualcosa un altarino ho bisogno di legno un pollo con il pollo vuoi fare l'altarino ma io voglio la carne del pollo la voglio io ma raga ma quale carne di pollo ma c'è rotto in flash che basta avanti vi do qualche info eh vedi uno l'ho preso vi do qualche info logicamente ognuno di noi andrà in una direzione diversa quindi Nord Sud Ovest Est è la canzone di Max Pezzali bravo cercheremo di fare ognuno il proprio villaggio come vi abbiamo detto questo qua in questo punto cercheremo di creare il villaggio dello spawn quindi magari in un secondo momento verremo tutti insieme a costruirci le casette le puttanate varie ok le puttanate mi piace ma guardalo che tryhard l'ho già preso la pietra papà io volevo dire tutti mi hanno detto chiacchia fai la minecraftita si e tu l'hai messa in difficile eh bravo ovviamente abbiamo impostato la minecraftita in difficile ma cosa che se Suri ce la prende in peaceful se va bene non si può eccolo in easy magari dai ma no c'era la difficult ma non è vero ma cosa vuoi mentire in difficult in difficult cosa è difficult è quella modalità in cui non sai bene se è hard medium o easy la modalità a caso a proposito bisogna fare delle regole del server qua bisogna fare ecco 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 ci si si ha via ma cadi nella lava, ma vai via ma veramente li state mettendo contro di me ma siete venuti ma caglio da me? Allora raga No raga ma non lasciate gli alberi così a mozzo ma no no dai no ma sarà una merda questo server già lo so è Giuseppe, è Giuseppe ma non puoi fare un altarino con l'arancione proprio brutto di base Vabbè ma tanto per adesso ci torniamo Mettici un blocco arancione tanto rimane qua Mettici un cartello qui è iniziato tutto E qui è iniziato tutto Scriviamo il diario Ma cos'è Staccio? Serie Mates in Minecraft Mates in Minecraft Raga ma qua non si taglia l'erba C'è stato pure tutto alla grande Raga sembra che sto vomitando Tasha vieni a far vedere ai tuoi scritti il cartello C'è l'altare di Stefano è una cagata tremenda No voi avete detto basta un cartello Va bene il cartello va bene così Vabbè Che si vede almeno da lontano Già è più carino di una crafting table Inizia il circolo satanico Ma cos'è la torta fatta di betulla Non è betulla Lascia Stefano più contani possibili che ho paura di loro Est Io ma sono quello che sta calmo e non si fessi fai i fatti suoi E' vero Sei tu che mi hai ammazzato io avevo dieci pezzi di legno Giuseppe ha giusto Oh madonna se lo metterà per tutta la vita dei dieci pezzi di legno Ragazzi siete sottoterra ti fa armoni di merda No prendiamo giusto due tre blocchi Due tre blocchi Ragazzi c'è un ragno che mi vuole uccidere Uccidi assolo ragno Allora io direi io Ah facciamo come si fa con i genitori Ci vediamo a Natale? Ci vediamo alle festività Oh madonna mia No perchè tu i tuoi genitori non li vedi neanche a Natale Non è vero Maledetto La pagherai per i miei La pagherai per i miei dieci blocchi di Ma non c'è niente raga La pagherai per i miei dieci blocchi di legno Marca le mie parole E' bufu Ehi raga quanta gente avete portato A me mi avete già stufato Io passo la notte qua sopra Aspetto che diventi giorno E poi inizio il mio episodio E ci vediamo alla prossima No l'acqua no In acqua Sascha stai attento Attento Sascha No dai dai Avevo mezzo cuore Ma che cazzo li ti spezzo le gambe E tu hai i tuoi Li voglio Eh ti ho detto Visto Aspetta dobbiamo No rifacciamo Ma c'è un villaggio là in fondo raga Come c'è un villaggio C'è un villaggio Verso Ovest Guarda Sì A me mi trovi alle coordinate Meno di 10mila Non è vero Faccio il mercato Se mi dai gli smeragli Ti do tutti i blocchi che vuoi Guarda il mercato Ogni server ha la sua economia Bisogna far girare i soldi qua Ragazzi sai che vi dico Figa Io vi saluto Vado verso Nord Che dovrebbe essere di qua Raga saluto anch'io Ci ritroviamo tra un po' di episodi Magari presto Più del previsto Chi lo sa Ok Non mi uscite Non mi uscite Non mi uscite Va bene raga Ma coglione Ma sciognone Cioè il re delle badwars muore da un coglione così Eh Oh è che E che è il re delle badwars Allora ragazzi Lo so Quando facciamo le intro con i mails non si capisce mai nulla Comunque Voglio spiegarvi un attimo come funzionerà questa serie Perché come sapete io ho già una serie in vanilla di minecraft in single player E faccio diversi episodi a settimana E quindi voglio spiegare un po' come funzionerà questa serie La mia proposta è la seguente Farò circa un episodio a settimana Ma saranno episodi in cui raccoglierò molta roba Molto contenuto Non come in minecraftita in cui facevo tanti episodi Lavoro di meno dei progetti Se così si può dire Cercherò di fare delle cose davvero davvero belle E per questo che usciranno pochi episodi Ora qua c'è un'isola piena di sabbia E io devo superare il mare Quindi mi farò una barchetta E andare a prendere assolutamente un po' di un po' di legno E qua non ce n'è assolutamente E direi che Superato il mare e tutto quanto Ci vediamo alla base Dopo che magari avrò preso anche un po' di risorse E capiamo un po' da farsi Ovviamente ragazzi non sempre saremo in chat vocale tutti quanti Quindi molto spesso invece useremo la chat Ad esempio c'è Sasha che già lo vedo che è un po' terrorizzato Per fare una serie di minecraft da solo Comunque ho già fatto tutti i miei bellissimi e simpaticissimi oggetti in pietra Così posso iniziare ad uccidere un po' di mob A prendermi un po' di cibo Magari non appena arriva la notte Cerco di infilarmi in qualche caverna A prendere un po' di carbone Non mi spingerò troppo oltre Perché i mob Sappiamo tutti che I nearly game Sono un po' pericolosi Soprattutto ora che siamo in diffic... in difficolti Hard Quindi diventa complicato Anzi Ho appena trovato del carbone Quindi sono contentissimo Posso cuocermi il cibo Visto che devo fare l'attraversata dell'oceano Non so quanto è lungo questo oceano Però ora siamo troppo vicino allo spawn per fare una base qui Mi faccio la barca E magari la notte la spendo proprio in quella direzione Tra l'altro ho già quattro bellissimi e simpaticissimi blocchi di lana Quindi dai che la prima base, il primo letto Può essere craftato Non lo piazzo ancora Ma lo crafto Siamo quasi a... Sta per tramontare il sole E io direi facciamo un super focus Stepni sta per morire nella sabbia Onesto Oh ci sono pure i coniglietti Cuccioli Io prendo tutto quello che posso prendere Canela zucchero Sabbia non la prendo ancora Anche se sto andando in una taglia in effetti Quindi un po' di sabbia potrebbe servirmi in futuro Nooo i coniglietti quelli belli belli Vieni qua Cucciolino Muori Ho detto muori Ah un po' di pelle Vediamo che cactus Comunque dopo l'attraversata non so quant' Quanta sabbia troverò Io mi faccio la caccia bot Poi vediamo Non appena diventa notte io inizio ad andarmene Per ora provo ad ammazzare altri animali Dov'è il sole? Hmm sta quasi per tramontare Ovviamente per non consumare Ehm come dice cosciotte Cerco di saltare e di correre il meno possibile all'inizio Ok sono finiti tutti gli animali con disposizione Mi sembra esagerato zio dai Ok Bella lì Ora si sta facendo notte Io direi che mi imbarco con la Nina, la Pinta e la Santa Maria Cristoforo Colombo può accompagnare solo Ci vediamo dall'altra parte dell'oceano Ok ok si sta facendo notte Andiamo Io direi che possiamo aumentare leggermente il passo Come vedete non ho ancora consumato cosciotti Cioè sto facendo davvero un game come si deve Pulito, onesto, tecnico Ci sono anche delle squid Io direi che mi metto in mezzo all'acqua Perché in mezzo all'acqua Indovinate un po' Non possono spawnare mob aggressivi E quindi io sono molto felice di questa cosa Mi lascio alle spalle L'isolotta, l'isolona Il continente dello spawn Lo scrivo anche in chat Bella raga Io parto per un lungo viaggio È stato bello conoscervi Ma il mare mi aspetta Cristoforo Colombo Mi fa una pippa Faceva ridere se ora morivo Perché sono caduto nell'acqua Ma non dovrebbe essere questo il caso Potrei fare tranquillamente raga il pirata io Guarda, ci sono delle isolette niente male Potrei usare alcune di queste isolette come Ah ma in realtà l'attraversata non dura un Kaiser C'è un po' d'acqua e basta Lì c'è anche della lava Allora facciamo così Aspetterò qui un po' la notte E poi cerco qualche risorsa Eh sono arrivato sulla mia nuova isola E l'accoglienza non è delle migliori Devo ammettere Perché è pieno di mob Ci sono anche tantissime caverne da esplorare Infatti sono contentissimo Anzi vi dirò Stavo proprio pensando di basare la mia base Scusate la ripetizione In questo mondo In questa serie Proprio come una serie di tunnel underground Un po' come ho iniziato a fare in minecraft era Ma quella è solo un sottopassaggio della mia base Voglio renderla invece la mia base principale In questo mondo Anche perché Insomma In cima Il mondo è pieno di cose brutte Io mi nascondo sotto terra Sono felice Ecco una cosa è sicura Dovrò imparare A tenere sempre il programma di registrazione acceso Perché facendo solo un video a settimana O più o meno Con questa cadenza Non voglio avere Troppe deadline Beh avendo una scadenza comunque Relativamente frequente Ma non troppo Capiterà spesso di registrare le cose al volo Quindi dovrò sempre avere il mio programma aperto E' pronto a registrare Io direi Becco una mini cavernina Dove stanziarmi Visto che tra poco No ok E' appena iniziata la giornata Abbiamo ancora molto da fare Faccio una super scorta di legno Spero anche di recuperare qualche alberello E poi mi infilo in caverna Ho fatto la mia prima Basetta Ho trovato anche Una caverna Qui ho fatto la porta Purtroppo avevo solo il legno da caccia a disposizione Lì lì pronto Quindi non è una porta che mi da molta privacy Diciamo così Comunque Ho già messo un paio di fornaci Sto coccendo ora il mio primo ferro Dovrei prendere anche l'achievement E daie Ho un botto di cibo Perché l'ho preso per la strada per arrivare qui Non vi dico di preciso dov'è che sono E cercherò di non mostrare le coordinate All'interno del gioco Perché ho paura che qualcuno venga a rubarmi le risorse Quindi insomma C'è anche questo rischio Facciamoci un piccone al volo Questa è la caverna che ho trovato Si biforca già Quindi c'è un Diciamo Un bivio Qua finisce ho trovato un po' di ferro Il ferro è comesso a cuocere E di qua invece scende Però prima di scendere Volevo un attimino Cercare di aumentare Le mie difese Ad esempio Qui c'è un bellissimo e simpaticissimo Amico zombie La Sasha è soltemporale Non vorrei che fossimo vicino a Sasha Perché No io sto andando a est Io sto andando a sud ovest Quindi è impossibile Manca una stringhetta Manca una stringhetta Ok intanto io piazzo le torce Sto anche Facendo Un'attenzione Incredibile E visto che sono proprio all'inizio del gioco Se mi spawno un creeper in casa È un problema Giustamente Giuse Se hai già fatto il piccone di ferro Sono quello No Sasha è quello più indietro Stavo vedere che ero quello più indietro Ma giustamente Sasha è morto anche un botto all'inizio Però beh non vi spoilerò niente Andate a vedere il video sul suo canale Perché i primi episodi I primi quattro episodi Sono usciti sui canali di tutti e quattro Quest'oggi Quindi se andate sui canali Doveste trovare tutto Allora quali sono le mie priorità? Ho bisogno di un piccone di ferro? Potenzialmente sì Ho bisogno di un piccone di ferro La spada va bene di pietra Boom achievement per Zosurri E ho bisogno anche di un secchiello Assolutamente Così prendo un po' d'acqua Così faccio una fonte d'acqua infinita Messo Grazie In effetti la fonte d'acqua era lì Cioè Però va bene uguale Magari qua attorno posso costruire una piccola farm Non sarebbe una brutta idea ora che ci penso Usiamo però il piccone di pietra Perché ferro purtroppo non ne ho tantissimo Quindi non vorrei sprecarlo Ok stavo parlando senza registrare Comunque E' passata la notte ma non ho dormito Perché volevo aspettare Per prendere dei fiorellini gialli Ho detto già che ci siamo Perché non facciamo un bel lettino giallo Piuttosto che farlo bianco Di solo tutti lo faranno bianco Io lo faccio giallo Quindi boom Aspetta prima devo colgare la lana è vero E facciamo così E abbiamo un letto giallo Alla grande Per il momento lo metterò qui Anche se di preciso Non so dove metterlo Questa non è la mia base eh Lo metto proprio per i script Notare raga che da fuori sembra una prigione In effetti potrebbe sembra una prigione Ok io mi sa che vado a minare Ho fatto giusto un po' di Una mini farm qui Perché avevo due ossa Quindi volevo approfittare Per prendermi anche un po' di pane O per lo meno per iniziare a farmare il pane Visto che si di carne ne ho un po' Ma non mi durerà mai abbastanza Ok ragazzi Vedo i diamanti Quindi non vorrei fare l'ingordo Ma ci provo Spero solo che non ci siano troppi mob Non ce ne dovrebbero essere Sento uno scheletro Io direi prendiamo i diamanti e scappiamo Uuu dai Oddio scheletro Pensavo di aver presso i diamanti Ma non è questo il caso Prende scappo Prende scappo Prende scappo Boom Boom Andiamo via da qua Senti allo scheletro Ho preso già un botto di materiali Direi che qua ci torniamo dopo Salviamo Uno slime Figata Ho fatto qui tutto un tunnel enorme Da cui farò partire altri tunnel Per cercare altri diamanti Comunque se quattro diamanti Direi che non è proprio male E anche giuse ha preso i diamanti Qua è tutto sicuro Ho messo torce dappertutto Dovremmo essere davvero davvero in un Tipo in un cavo Non dovremmo riuscire a morire Questo è il mood Mettiamo un po' di carbone qua Mettiamo a cuocere il ferro Mettiamo da parte i diamanti Io ho paura a lasciarli qui incustoditi Però li mettiamo qui per ora Anche perchè non do un ender chest Per il momento E ho anche due slime ball Che non è roba da poco C'ho anche dell'oro Mettiamolo a cuocere Ragazzi Io direi che come primo episodio Può essere abbastanza contenuto Abbiamo fatto questa minibase Siamo allontanati dallo spawn Che al dire il vero È abbastanza lontano È un bel po' lontano Stefano è già staccato Mi sa che ha finito di registrare Il suo episodio E doveva fare altro Tasha non so se ha ancora trovato casa sua Spero di sì Io passerò un po' di tempo A lavorare nelle miniere Spero di ritornare Da voi Nel prossimo episodio Con un botto Di materiali Per questo video è tutto Vi ringrazio tantissimo Per la visione E per lasciare mi piace Se vi è piaciuto questo video Iscrivetevi al canale Se ancora non lo avete fatto E se voi su Twitter Instagram Facebook O comunque voi vogliate Io vi saluto Ciao a turuturututti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti